Maddy McCann è stata uccisa. In una lettera il procuratore tedesco che indaga sul caso, Hans Christian Wolters, avrebbe scritto ai genitori della bambina inglese di tre anni scomparsa in Portogallo nel 2007. Siamo vicini al vostro dolore, vostra figlia è morta, lo riferisce il tabloid britannico Daily Mirror. Wolters è a capo dell'indagine su Christian Bruckner, il 43enne tedesco già condannato per pedofilia e principale sospettato della scomparsa di Maddy. Al Mirror il procuratore ha poi aggiunto, siamo vicini al dolore dei genitori ma se rivelassimo loro maggiori dettagli ciò potrebbe compromettere l'indagine. Abbiamo prove concrete che il nostro sospettato ha ucciso Maddy e questo significa che è morta. Ai genitori è stato detto che la polizia tedesca ha le prove della sua morte ma non abbiamo comunicato loro ulteriori dettagli. Sempre il Daily Mirror scrive che Bruckner è attualmente indagato per il terribile stupro e assassino di un altro bambino di 13 anni. Il corpo di Tristan Brubach fu ritrovato in un sottopassaggio di Francoforte e il ragazzino era stato strangolato, stuprato, torturato e mutilato, secondo la stampa tedesca.